La grande trappola delle fake news e le nuove sfide per combatterle. Di questo si è parlato all'Oscar Pomiglio Bloom Forum durante il meeting che si è tenuto a pescare chi ha visto tra gli ospiti Miguel Maduro, presidente del Comitato Esecutivo di EDMO, l'Osservatorio Europeo dei Media Digitali, già ministro dello sviluppo regionale in Portogallo e avvocato generale alla Corte di Giustizia Europea. Sulle notizie a Chiappa Clicca Maduro ha sottolineato che, anche se sappiamo già che quella notizia sarà fastidiosa per noi che non siamo d'accordo, iniziamo a sentire un bisogno irrefrenabile nel cliccare. Ci trasmette come della dopamina al pari di quando veniamo punti da una zanzara. Sappiamo benissimo che non dobbiamo grattarci per irritare ulteriormente la pelle, eppure lo facciamo. Il presidente dell'Osservatorio EDMO, che riunisce un network di otto hub nazionali che studiano l'impatto della disinformazione sulla società e diffondono pratiche positive nell'uso dei media digitali, ha ricevuto l'Ethic Award dell'Oscar Pomiglio Bloom Forum. Oltre a Maduro è stato premiato il professor Walter Quattrociocchi, docente dell'Università alla Sapienza di Roma, esperto di disinformazione. Il giornalista inglese specializzato in infografica David McCandless ha evidenziato che il dato non è mai neutro perché è influenzato da come viene presentato dal punto di vista del suo analista. Il dato preso singolarmente non è sufficiente a comprendere una situazione, bisogna analizzarlo creando contrasto e contesto. L'Oscar Pomiglio Bloom Forum si è svolto a Pescara nell'ambito dell'Ultra European Network Meeting, che ha riunito 40 agenzie provenienti da 26 paesi del mondo per parlare delle nuove tendenze nella comunicazione istituzionale. Nell'occasione è stata inoltre presentata una nuova start-up realizzata da Pomiglio Bloom e denominata Decoding, composta da esperti del settore per monitorare e analizzare i flussi di disinformazione per supportare le istituzioni nell'analisi dei fenomeni comunicativi critici, con la progettazione di contro-strategie e narrazioni positive sui valori istituzionali e sugli attività per migliorare la loro reputazione. Il tutto attraverso una serie di strumenti e procedure specializzate di alto livello per monitorare, analizzare e smascherare disinformazione e informazione errata con un contestuale monitoraggio degli effetti e dell'efficacia di tali strategie. Promuovere un efficace scambio di idee è un pilastro di una diplomazia internazionale all'avanguardia incentrata sul dialogo e sul multilateralismo. Questa è una delle sfide che stiamo affrontando. In tale scenario il ruolo dei vertici come quello di UIN, di appuntamenti come l'Oscar Pomiglio Blum Forum è sempre più rilevante, conclude Franco Pomiglio, presidente della Pomiglio Blum.